Bene, prima di andare a lavoro, innanzitutto buongiorno e buona giornata a tutti, alle sette puntuali di questo giovedì 29 ottobre 2020, sempre a cura del duo Deluxe e Zecchillo, partiamo con la seconda giornata di Champions League, seconda giornata appunto gare di ieri, di mercoledì 28, partiamo dalla Lazio in trasferta a Bruges contro il club Bruges, finita 1-1 la partita, quindi Lazio e club Bruges al momento si contendono al primo posto con 4 punti, mentre il Dortmund riduce dalla vittoria interna per 2-0 contro lo Zenit e terza a 3 punti lo Zenit a 0, nella prossima partita settimana prossima la Lazio sarà attesa da un'altra delicatissima trasferta a San Pietroburgo in casa dello Zenit, il club Bruges se la vedrà in casa contro il Borussia Dortmund. Ora passiamo invece alla Juventus, invece purtroppo è noi italiani sconfitti in casa contro il Barcellona che veleggia prima in classifica nel gruppo G con 6 punti, 2 vittorie su 2, 7 gol fatti, 1 subito, la Juve invece seconda, 3 punti, 2 gol fatti, 2 subiti, terza la Dinamo Kiev col Ferengvaros a 1, perché Ferengvaros e Dinamo Kiev hanno pareggiato 2 a 2, la Juve nella prossima gara settimana prossima si regherà a Budapest per affrontare il Ferengvaros, mentre il Barcellona affronterà in casa la Dinamo Kiev, quindi insomma la Juve dovrà cercare sicuramente di vincere, anche perché sulla carta Barcellona-Dinamo Kiev, già insomma sappiamo che il Barcellona ha tutto il potere dalla sua parte, quindi è vero che la Juventus seri e seri aveva fuori alcuni pezzi pregiati, ma bene, quindi abbiamo concluso per la UEFA Champions League, domani parleremo dell'Europa League di oggi con le tre squadre nostre italiane. Buon proseguimento di giornata a tutti, mi trovate come al solito sempre qui su Youtube e su Facebook. Ciao a tutti e buon proseguimento, ciao!